ciao a tutte allora era un po che non facevo un video vuoto alla speda e visto che un attimino sono riuscita a stare in libera uscita e quindi andare per negozi dove sono stata la tigotà e qualcosa anche la saponaria ma non mi ricordo cosa vi faccio vedere che cosa ho preso allora essendo donna di casa che cosa mai potevo prendere cartigenica da un chilo questo l'ho preso a tigotà e sono sei rotoli anche belli grossi ed è un euro e 99 l'uno e ovviamente ne ho presi è una buona promozione oltretutto si usa sempre ma per non farci mancare niente anche la carta cucina questa è della comprami è buona perché ha un sacco di strappi sono sei rotoli sei rotoloni e l'ho pagata 3 euro e 90 quindi altro super affare sacchi di epattumo in offerta un euro ma vanno sempre bene e poi dopo ultime cose casalinghe alcol l'alcol questo è quello è pure al 90 per cento quindi non quello profumato quello classico ed è quello di cammino serve per pulire in casa serve sempre due ovviamente e il prezzo è di un euro 85 l'uno prezzo pieno veniamo alle cose un pochino più interessanti c'erano in offerta il colgate e volete che non prenda il dentiferico quando è in offerta 0 99 l'uno ho preso questo che il baking soda per denti naturalmente più bianchi poi questo herbal original per denti sani e dengive forti ma lo proviamo e poi il protection caries rinforza i denti di fresca l'alito a gusto fresco con calcio 99 centesimi l'uno per 75 ml proviamoli altra cosa in promozione che ho preso e questa ve la faccio vedere devo guardare il prezzo prima ok allora 75 centesimi l'uno ho trovato i vidal il doccia e doccia schiuma della vidal questi sono fantastici non li avevo mai provati questi questo è doccia schiuma coccola inutre burro di carité e olio di mandorla questo qui quindi 75 centesimi sa di mandorla che è una cosa fantastica poi questo qua coconut water rinfresca di idrata e con acqua di cocco e monoi anche questo mi sembra buonissimo sa di cocco e poi questo la linea emotion la linea emotion e fantastica nella mia promozione l'ho trovata sempre a 75 centesimi controllavo lo scontrino quindi questa è vaniglia e qui intanto qualcuno vuole uscire ma comunque si aspetta due secondi netti perché io concludo il video e non un'ora sono riuscita a fare un sacco di shopping per riuscire a acquistare tutte le cose in promozione quindi fatemi sapere se questo tipo di video vi piace un po così casereccio e la veloce per vedere anche se c'è qualcosa che vi può interessare o che volete magari che recensisco tipo loro loro gli recensisco sicuro appena li provo e comunque se ti piaciuto questo video mi raccomando di mettermi un like iscriviti al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così verrai visata ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao